Salerno protagonista alla Borsa del Turismo di Milano. La delegazione cittadina ha incassato risultati lusinghieri alla Fiera Internazionale, tanto da ricevere anche i complimenti del Ministro Garavaglia. Per l'assessore al turismo Alessandro Ferrara ci sono tutte le condizioni per guardare con ottimismo ai prossimi mesi, ma le prospettive sono positive già dall'imminente Pasqua. Abbiamo avuto un gran riscontro, a dir la verità ci hanno attenzionato veramente in modo molto egregio. Abbiamo avuto la possibilità anche di avere i saluti del Ministro Garavaglia nell'ambito della conferenza stampa che è stata presieduta dal sindaco Vincenzo Napoli e dalla mia persona. A dir la verità la cosa che mi ha sorpreso è che Salerno in questo momento veramente rappresenta una vetrina a livello nazionale e direi anche a livello internazionale. Abbiamo presentato il nostro programma, un programma ricco di eventi che partirà non solo dal punto di vista culturale ma anche a livello di sport, mare, cultura e quant'altro. Diciamo che siamo sulla strada giusta. Immagino che abbiamo un trend positivo sulla nostra città dove comunque allo stato attuale le feste pasquali su dieci camere sette sono occupate. Quindi questo fa ben sperare a poter poi fare cose buone. Nel frattempo l'amministrazione ha già predisposto un ricco calendario di appuntamenti per animare la città e offrire occasioni di svago, divertimento e cultura ai turisti ma anche ai salernitani.